Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast di avventurieri.eu Il titolo di cui volevo parlare oggi l'ho finito relativamente da poco, addirittura in vacanza, e mi ha lasciato molto stupito per la grande varietà di citazioni, ma ci arriveremo piano piano. Il titolo in questione è del 2014, pubblicato dalla The Dark Entertainment ed è Randall's Monday. Allora, per spiegarvi bene la trama lasciate che vi faccia una domanda. Avete mai avuto una giornata bruttissima di quella che proprio di te non vedo l'ora che finisca e non ci voglio più pensare? Bene, questo è il presupposto da cui parte la trama, diciamo così, perché la storia racconta di Randall Hicks che poi più avanti nel gioco scopriremo di essere impiegato in una ditta di spedizioni che dopo una lunga giornata di lavoro va a bere una birra con un paio di amici. Ecco, durante la serata il nostro caro amico Randall ha la brillante idea di provocare una rissa e rubare un anello cosa che scatenerà tutta una serie di eventi, non ultimo il fatto che la giornata continua a ripetersi non proprio con gli stessi avvenimenti, diciamo, che lo scorrere del tempo rimane bloccato a lunedì. E questo è esattamente il fulcro anche espresso nel titolo. La grafica è molto divertente, molto colorata in stile cartoon e qualcuno dice che i disegni ricordino un po' lo stile della famosa serie televisiva La Famiglia Griffin. E effettivamente, guardandoli, mi sono accorto che forse non è poi così lontano dalla realtà. Sono disegni comunque con grafica cartoon, abbastanza schizzati, abbossati e comunque con personaggi molto sopra le righe e a volte dall'aspetto quasi assurdo. Gli enigmi sono pochi o almeno quelli di stampo prettamente logico. Il titolo si focalizza di più sull'interazione tra oggetti e inventario o tra gli oggetti e lo scenario. C'è solo un enigma di stampo prettamente logico, più o meno a metà gioco e uno, se così lo possiamo chiamare, verso la fine che consiste semplicemente nel trovare la frase giusta che faccia proseguire una conversazione in modo da cambiare l'esito di un determinato evento che ha portato appunto allo scatenarsi del fatto che è il giorno che il lunedì continua a ripetersi. Quindi è un po' complicato ma cercherò magari di approfondire nella parte spoiler. L'interfaccia è appunto stile cartoon. Cliccando su un oggetto o su un personaggio si apre un menu contestuale con le azioni guarda, esamina e parla e a volte cliccando su un'azione non adatta ad un oggetto o a un personaggio si possono ottenere risposte assolutamente assurde tipiche dell'umorismo di questo genere di giochi. Il sonoro è molto accattivante perché si avvale di buone musiche e di un doppiaggio in lingua originale che farà felici i fan di questo tipo di doppiaggio quelli che sostengono che tradurre un gioco o un film o una serie tv faccia perdere alcune sfumature della lingua originale. Ecco, qui non c'è questo periodo perché il titolo è completamente in inglese con il sottotitolo in italiano. Quindi potete gustarvi a pieno eventuali giochi di parole ed eventuali doppi sensi che sicuramente ci sono anche con riferimento abbastanza pesanti che io non sono riuscito a cogliere ma magari qualcuno più sveglio di voi ci riuscirà. In conclusione, è sicuramente un buon titolo da giocare, in particolare per gli avanti della cultura nerd e di grandi capolavori del passato e adesso capiremo meglio il perché. Bene, io vi saluto se non avete ancora giocato questo titolo vi sconsiglio di proseguire con l'ascolto della recensione perché voglio fare un po' di spoiler se invece ci avete giocato e volete sentire a me più nello specifico gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1 allora, dicevamo che questo titolo è ricco di citazioni ad esempio possiamo trovare un'incitazione già subito nel filmato iniziale dove possiamo vedere che mentre Randall e il suo miglior amico Matt stanno parlando quest'ultimo gli mostra un anello e a un certo punto dice una frase del tipo più lo guardo e più avrei voglia di tenerlo facendo intendere una una specie di citazione o comunque un omaggio al Signore degli Anelli come se fosse stato ipnotizzato da questo anello e poi abbiamo altre citazioni a a classici del passato come Taxi Driver Ritorno al Futuro Star Wars insomma c'è tanta roba nella stanza di Randall troviamo addirittura il cabinato di un vecchio videogioco degli anni 70 80 Polibius che può essere una citazione ghiota per gli appassionati di videogiochi e per chi conosce questo titolo e magari abbia avuto modo di giocarci in quel periodo poi insomma le citazioni sono talmente tante fino a sono talmente tante che stare qui ad elencarle tutte richiederebbe una recensione lunghissima di 16 ore come dice uno youtuber che seguo e lasciavo il piacere di scoprirle una parentesi particolare però merita il finale a un certo punto arriviamo addirittura alla fine del mondo dove si scopre che che la la migliore amica la fidanzata di Matt in realtà è una creatura infernale e che in un certo senso forse un po' colpa sua se se questa se l'anello è stato maledetto e se Randall entrappolenta in questa specie di loop temporale che continua a portarlo alla ripetizione del lunedì mi sta venendo in mente adesso che questo sarebbe un gioco poco adatto per esempio a a Garfield se avete mai visto il fumetto o la serie animata sapete che Garfield odia il lunedì quindi immaginatevi un po' che cosa deve essere essere interpolati in un loop temporale simile bene con questa deliziosa con questa deliziosa immagine io vi saluto spero di non avervi annoiato troppo e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti